Buongiorno, benvenuti a tutti a questa diretta di oggi, 31 agosto, ultimo giorno di agosto e non è detto che per tutti sia l'ultimo giorno delle vacanze. Partiamo subito dalle notizie della giornata che sono di tipo politico, perché il Corriere della Sera oggi rilancia in prima pagina il seguente titolo, Partito Unico del Centrodestra. Ti verrebbe da dire se, ma da quando? È dal 94 che Berlusconi, prima con la Lega, vi ricorderete, Nord di Bossi e poi con i fascistoni, post-fascistoni di Fini, cercarono di fare il Partito Unico e non ci riuscirono e poi il Polo della Libertà, secondo loro il Partito Unico adesso è cosa da fare. Ed è tutto evidente che con un sistema elettorale proporzionale come il nostro, a proposito, qualcuno parla ancora di modifica delle leggi elettorali come sembrava pochi mesi fa? Non gliene frega più niente a nessuno, oggi si parla di tutt'altro. Mi chiedo, con un sistema proporzionale come quello che c'è oggi, a parte una quota maggioritaria nei collegi, ma è residuale. Secondo voi c'è qualcuno che è interessato a far scomparire il proprio partitino, posto che poi le soglie sono piuttosto lasche per poter accedere alla redistribuzione dei seggi? La risposta è certamente no. Voglio vedere come Berlusconi e la Meloni siano convinte di fare un partito unico con Salvini. Staremo a vedere. Nel frattempo ci sono notizie che arrivano da Conte e le tira fuori Sallusti che con un titolo come fa il giornale di quelli castici e provocatori che cosa dice? Dice, insomma, Conte e il Premier è in piena crisi di nervi. Su un altro giornale oggi invece il Premier ci dice non tanto di essere in crisi di nervi ma che vuol fare un solo mandato e poi basta. Se ci riuscirà a farlo tutto in tero, sostengono molti altri analisti tra cui Bisignani. Qual è il punto fondamentale del giornale ma anche degli altri giornali sulla Premiership di Conte? È che tra Movimento 5 Stelle e Lega ci sono differenze sempre più sostanziali. Minzolini, la spiega bene oggi sul giornale, dice ma insomma il baratto leghista tra meno immigrazione e più decrescita è un baratto che non funziona perché non funziona per gli elettori della Lega, il decreto dignità, non funziona il taglio alle cosiddette pensioni d'oro, non funziona la nazionalizzazione delle autostrade. Su questo il Fatto Quotidiano pensa di aver pizzicato i leghisti con le mani nella marmellata e ne troveremo tanti di mani oggi nelle marmellata perché vorrebbero farsi la pedemontana veneta da sola. Ma ritorniamo sulle questioni politiche. Sulle questioni politiche Minzolini pone dei temi sui quali deve esserci un certo dibattito nel centrodestra. Mario Giordano sulla verità che non è mai stato così indulgente nei confronti di un governo come quello Conte giallo-verde e oggi però in maniera molto dura dice ragazzi attenzione a non far casini su queste cosiddette pensioni d'oro, fermatevi perché lì rischiate di danneggiare persone che per una vita hanno lavorato e hanno pagato i contributi. In maniera più tecnica Brambilla che smentisce di essere il consigliere di Salvini, ma certamente uno molto vicino e conosce molto bene Salvini, che è l'esperto, suo dison leghista della Previdenza, con un'intervista alla Corriere della Sera e ci spiega perché è una minchiata questo disegno di legge presentato in Parlamento dal capogruppo leghista e del capogruppo del Movimento 5 Stelle sulla riforma delle pensioni d'oro. Perché sostanzialmente taglierebbero le pensioni non in funzione di quello che hanno pagato nel passato i pensionati cosiddetti d'oro, sopra i 4.000 euro, mentre nel contratto di programma era previsto sotto 5. Ma il punto è, dice Brambilla, è che questi vogliono fare la pensione di 780 euro per tutti quanti, la cosiddetta pensione di cittadinanza e allora fa un ragionamento semplice, Brambilla, che potrei fare io, il mio macellaio, è il conto della serva, dice ma scusatemi, ma se tutti hanno garantito una pensione di cittadinanza 780 euro, ma chi avrà l'incentivo a versare contributi per avere una pensione di 780 euro che con l'attuale sistema vuol dire avere una retribuzione annua e dico io per 40 anni di 25.000 euro all'anno? Quindi, dice molto chiaramente Brambilla, avremo sicuramente molte persone che diranno ma tanto io a 63, 64, 65 anni avrò una pensione di 780 euro, ma chi se ne frega di versare contributi? Talmente semplice che lo capirebbe anche un bambino, non so se questo governo, riguardo alle pensioni d'oro, dice è sbagliato penalizzare chi è andato in pensione 20 anni fa a un'età che era prevista di pensionamento 15 anni fa e oggi gli cambiate le carte in tavola. Questa è la posizione dell'uomo vicino alla Lega e trovate tutto quanto sul Corriere della Sera. L'altra cosa che è divertente oggi è il dibattito su cosa deve fare la sinistra, cioè più che divertente è una corazziata potionkin, l'ha inaugurato Veltroni e oggi Padellaro dice beh ma Veltroni con 501 righe è possibile che io mi accorgo del tuo messaggio alla riga 280esima? Nel frattempo Padellaro mentre dà del cornuto all'asino, è un asino, nel senso che lui fa una pagina intera del Fatto Quotidiano, cazzo dici stai scrivendo troppo lungo, hai dato la notizia alla riga 280esima e cosa fa Padellaro? Una pagina intera per dire che quell'altro è un asino, ma io la trovo una cosa stupenda, è come se io dicessi, vabbè lasciamo perdere, e cosa dice? Mi sono dovuto leggere tutta sta pippa di prima di Veltroni tre giorni fa su Repubblica e oggi di Padellaro che dice che è troppo lungo il suo pezzo e si prende una pagina intera sul fatto per dire che cosa? Che la sinistra ha delle responsabilità per la vittoria del Movimento 5 Stelle? Non ci avevamo pensato, non ci avevamo pensato che la sinistra avesse delle responsabilità, ce l'ha spiegato in 20 righe ieri in Cerasa, ma come si fa, come si fa a scrivere solo per se stessi? Ma vi dico un'altra cosa, dice, io però su una cosa sono d'accordo, dice Padellaro con Veltroni, e su che cosa è d'accordo con Veltroni? È che la sinistra, c'è stato un esodo di voti dalla sinistra al Movimento 5 Stelle, porca puttana, qua ci voleva uno scienziato politico, qua, mannaggia, ma perché non gli diamo il Nobel? Prendiamo un Nobel per quello che dice la cagata più ovvia di tutte, ma se il Movimento 5 Stelle prende il 30% dei voti, non ha preso i voti dal PD, che è al suo minimo storico, cioè ci voleva Veltroni, Padellaro, una pagina intera del fatto, la riga 280esima, 300 righe di Padellaro contro le 600 righe, ve lo risparmio, chi guarda questa zuppa di porro può risparmiarsi, purtroppo anch'io ogni tanto sproloquio perché parlo per troppo, dovrei parlare solo per 10 minuti, sappiate che questo dibattito è come la corazzata Potionkin, una cagata pazzesca, chiaro? Lasciatelo perdere, non c'è una persona che riesca a dire una cosa interessante. Andiamo avanti, anzi a dettaglieri forse c'è rasa, e cioè che siamo vittime ancora di quel processo di anti-berlusconismo. Questioni economiche molto importanti, a Hug, Giorgio, siamo tornati a Milano. Un'altra questione importante è vera, è la risalita dello spread, poi vedremo le responsabilità. Ieri abbiamo messo in asta i nostri titoli di Stato e effettivamente i titoli di Stato a 5 anni costano 63 punti base in più e 37 punti base in più quelli a 10 anni, che vuol dire che un titolo di Stato a 5 anni è 2,44% costa allo Stato, e un 10 anni 3,25%, quindi costa di più il nostro debito pubblico. Per quello oggi Tria da tutte le parti dice starò buono. Un'intervista a Moscovici, presidente e il commissario europeo agli affari monetari, dice con Tria abbiamo un buon accordo e compagnia cantante non dovete sforare il 3%. In realtà però stiamo attenti perché io non sono un fan di questo governo, sapete bene come la penso sul decreto dignità, però stiamo e soprattutto sulla nazionalizzazione, sulle dichiarazioni assurde fatte sulla nazionalizzazione delle autostrade, però stiamo attenti perché siamo in un momento in cui la Turchia è nel disastro più totale, l'economia comunque mondiale non cresce più quanto dovrebbe crescere soprattutto quella europea e il peso argentino ieri ci ha fatto vedere e sentire una nuova crisi per un rialzo del 60%. Sta facendo questo governo bene in tema economico? No! C'è effettivamente un'attenzione in questo convento perché come scrive qualcuno oggi e mi sembra che sia proprio il Cerasa, quello che conta sono anche le dichiarazioni, non soltanto i fatti e quindi le dichiarazioni di questi spaventano? Certo! Ma attenzione perché se noi dovessimo lavorare e pensare a tutto quanto col bilancino dello spread avremmo semplicemente l'inutilità della democrazia e delle sovranità popolari, non faccio il sovranista, dico che lo spread è importante, sia chiaro, ma oggi i dati ci dicono che sta peggiorando ma siamo ancora in un livello di guardia. Magnaschi oggi, molto bello su Italia Oggi, prende in giro Macron e con un titolo fantastico, oltre a definirlo ridicolo nel suo atteggiamento perché si sceglie come nemico Salvini, dice lui pensate un po' voi se Mitterrand avesse scelto come nemico almirante, si sceglieva gli nemici, non so chi si dice, non almirante, invece dà il senso dell'Italia che è diventato un nemico di Macron, ma dice come tutti i moralisti protesta e proietta i propri difetti sugli altri, cioè il Macron moralista che vede complotti da tutte le parti e soprattutto il moralista che ha rifiutato come nota oggi il giornale, ma non solo, 40.000 clandestini negli ultimi anni. Cade un tetto a Roma in una chiesa importantissima, tutti i giornali ne parlano, è ovviamente l'accostamento col Ponte Morandi è del tutto chiaro, leggete, vi prego, chi sono i responsabili della manutenzione e della gestione. È una chiesa, quindi uno pensa al Papa, ma il Papa in realtà è il Papa e il Vescovo di Roma, ma volete che il Vescovo di Roma si occupi di questa cosa? C'ha l'Arcivescovo, il Vicario Vescovo di Roma che se ne deve occupare, ma tutti quanti le chiese di Roma in realtà sono sottoposte alla soprintendenza speciale di Roma, ma quella chiesa era vicino al Colosseo e quindi fa parte del parco archeologico del Colosseo. Insomma, sono tutti responsabili, nessuno è responsabile, insomma, è la solita roba quando voi volete nazionalizzare, volete rendere pubbliche le cose, poi trovate una cazzo di responsabilità, soprintendente speciale, il parco del Colosseo, sono venuti tutti e due insieme, sono arrivati sia il soprintendente speciale di Roma, sia il, come si chiama, il responsabile del parco archeologico del Colosseo, ci mancava il Papa, erano venuti tutti a vedere sto tetto, perché tutti sono i responsabili. La cosa favolosa di oggi purtroppo è quella come sempre che riguarda il Ponte Morandi e la battuta di Feltri oggi è geniale, prima pagina di Libero dice, ma piano, criptocomunista che non sei altro che perché piaci tutti i fighetti della sinistra, ma ci spieghi che cacchio c'entra un architetto nel rifare un ponte, fino a prova contraria, i ponti li fanno gli ingegneri, certo, gli architetti possono disegnarli, io non lo so, non ho idea, quella cagata del ponte di Venezia di Calatrava, mi sembra un architetto, mi sembra che si scivoli, non sia stato fatto così bene, aggiungo io, io non voglio entrare nel merito di questa cosa, ma una cosa dice Sacrosanta Feltri in un pezzo delizioso come sempre viene, e quando scrive Vittorio Feltri in forma, e dice, spiegatemi una cosa, il ponte deve essere bello o deve essere fatto bene, sicuro e in fretta, io non avrei dubbi sul momento che cosa rispondere, detto questo se è anche bello, ci fa piacere a tutti, se vi piace questa zuppa condividetela, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutte le altre novità di giornata e ovviamente a domani con la medesima zuppa, ciao!